Ciao Leone, come stai? Allora andiamo a vedere qual è il messaggio per te. Iniziamo con un oracolo, dall'oracolo risponde e vediamo subito qual è il primo messaggio. Vediamo che energia viene fuori, per te Leone, tutto ciò che brilla. Allora questo oracolo ti vuole un po' innanzitutto sicuramente ti vuole diciamo sottolineare ok che non tutto ciò che brilla è poi qualcosa di positivo, qualcosa di costruttivo ok qualcosa che può farti stare bene. Quindi è come che ti dica ok ci sono delle cose che brillano che sono molto positive, magari altre meno ok? Quindi questo è un po' un consiglio che l'oracolo ti vuole dare. Prendiamo adesso un oracolo di Sephirion e vediamo che cosa viene fuori. Il vuoto. Dunque il vuoto è qualcosa di meraviglioso, molti temono il vuoto, in realtà dal vuoto si rinasce ok? Ora non è detto che in questo momento tutta la tua vita sia in un vuoto ok? Riguarderà qualcosa. Questo vuoto fra l'altro è bellissimo, non è un'immagine assolutamente cupa, triste, assolutamente. C'è anche della luce no? Mi viene subito da dire una cosa. Questa luce che c'è sia qui che qui è collegata e cioè come che dica quel messaggio che ho detto prima no? Non tutto ciò che brilla ti fa stare bene e quindi è necessario creare un vuoto ok? Quindi sono molto collegate queste due, questi due oracoli sono veramente molto collegati e ti dicono Leone è possibile che tu debba creare un vuoto riguardo a qualcosa che apparentemente è brilla quindi no? È positivo ma in realtà non è così e quindi è necessario come creare o lascia questa cosa lascia un vuoto proprio oppure è proprio necessario creare un vuoto no? Fare spazio a qualcos'altro. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi. Fante di denari, cavaliere di spade, il giudizio. Allora guardiamo prima queste tre carte. Innanzitutto io qui vedo, qui ci sono anche altri messaggi ovviamente, io qui vedo per te in arrivo una proposta ok? Che riguarda, può riguardare qualsiasi cosa, quindi delle comunicazioni in arrivo anche abbastanza veloci che riguardano una proposta ok? Poi andiamo a vedere più nello specifico magari di cosa si tratta. Però qui sicuramente per te Leone il messaggio è molto chiaro. Ci sono delle comunicazioni in arrivo che riguardano qualcosa o qualcuno ok? O magari sei anche tu che comunichi qualcosa a qualcuno eh? Vuoi proporre qualcosa a qualcuno? Potrebbe essere anche il contrario. Andiamo a vedere adesso ancora. Re di coppe, temperanza, otto di spade. Allora io qui vedo, Leone, che queste comunicazioni che verranno fatte da qualcuno o che farai tu perché ripeto potrebbe essere per alcuni che arrivano e per altri invece che sei tu l'attore principale ok? Riguardano un qualcosa che erano un po' ferme ok? Erano un po' bloccate. Quindi qui è come che si sblocchi una situazione ok? Molto positiva per te e che magari è un qualcosa che va a riempire quel vuoto creato invece da una situazione che era solo apparenza ok? Se vogliamo collegarci alle carte di prima poi non è detto che per tutti sia così. Però io qui vedo per te qualcosa di molto positivo. Potrebbe anche essere anche riguardare anche i sentimenti con quest'ora di coppe ok? Ma non è detto. Devo dire che qui possono rientrare varie tipologie di situazioni. Quello che vedo è che si sblocca un po' qualcosa, una situazione che era ferma da un po' e che può collegarsi per alcuni a quel vuoto che si era un po' creato ok? In seguito a una situazione, a una persona che era solo apparenza. Per altri invece indipendentemente da questo ok? Quindi questo è un po' il messaggio per te Leone. mi piace, molto positivo. Io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo giro. Ciao!